Ciao copywriter! Nel video che segue andremo ad analizzare la headline forse più di successo che ho mai formulato. Questa headline è responsabile per conversion rate superiori al 60% e mi ha permesso di trasformare numerosissimi seguaci in clienti paganti. Allo stesso tempo mi ha permesso di diffondere fin dal primo impatto che ha il potenziale cliente con me il messaggio che ci troviamo nell'era dell'attenzione, che è il messaggio chiave del mio marketing. Non vedo l'ora quindi di mostrarti tutto per cui passiamo subito alle slide che ho preparato per te. Presta bene attenzione a questo video e guardalo fino alla fine perché ti rivelerò il segreto che mi permette di di creare sempre titoli e materiale risucchi e attenzione senza fare alcuno sforzo. Quindi guarda questo video fino alla fine per saperne di più. Se hai seguito i video di questi giorni hai capito come le headline, cioè i titoli, sono lo strumento numero uno per catturare l'attenzione del lettore e farlo cadere nello scivolo insaponato di cui abbiamo parlato da cui ne uscirà solamente comprando il tuo prodotto. E nel copywriting una delle citazioni che più mi piace viene da David Ogilvy che dice che in media cinque volte più persone leggono la headline rispetto a quante leggono il resto del copy. Quindi quando hai scritto la tua headline hai speso 80 centesimi del tuo dollaro. Questa citazione mi ricorda sempre l'importanza della headline perché possiamo avere l'offerta più interessante del mondo, il copy più persuasivo, ma se non scriviamo una headline giusta che cattura l'attenzione, nessuno arriverà mai alla nostra proposta e guadagneremo 0 euro. E oggi ti ho promesso che andremo ad analizzare la headline che più di tutte ha influito sul successo della vendita dei miei corsi. Questa è sicuramente la headline della squeeze page del mio prodotto PowerCopy. La headline presente sulla pagina cattura contatti di questo prodotto da cui sono passati migliaia e migliaia di visitatori. Se hai comprato già PowerCopy allora sicuramente l'avrei vista. La headline dice come scrivere copy nell'era dell'attenzione, rivelato il fondamentale cambiamento da adottare subito nelle proprie comunicazioni, articoli, email, social per non rimanere indietro e sfruttare la nuova ondata di traffico che arriverà. Molti marketer famosi lo stanno già facendo, te ne sei accorto? Più del 60% dei visitatori inserisce nome e email in questa pagina dopo aver letto questa headline. Come puoi sentire tu stesso viene una voglia irrefrenabile di saperne di più, di continuare a leggere dopo aver letto per la prima volta questa headline. Ma qual è il segreto di questa headline e in particolare della sua seconda parte che più tecnicamente si chiama subheadline? Analizziamolo insieme. Innanzitutto ci accorgiamo che questa headline sfrutta la rule of one, la regola dell'uno. La regola dell'uno dice che qualsiasi comunicazione deve girare sempre attorno ad un solo tema principale, un solo tema fondamentale. Nell'era dell'attenzione non dobbiamo confondere il nostro visitatore, il nostro lettore con troppi argomenti, con troppi temi, ma dobbiamo puntare tutto, tutte le nostre fish su un solo, unico, potente argomento. In questo caso abbiamo che sta avvenendo qualcosa di power, di importante, una nuova ondata di traffico e basta un semplice, fondamentale cambiamento per riuscire a sfruttarla. L'intera headline punta tutte le sue speranze su questo unico grande tema della nuova ondata di traffico che arriverà e del semplice cambiamento che bisogna adottare per sfruttarla. Voglio farti notare anche che, rivelato il fondamentale cambiamento da adottare subito nelle proprie comunicazioni, sfrutta anche l'idea della semplicità, perché non si parla di andare a cambiare, a stravolgere completamente il proprio business, ma si parla semplicemente di un fondamentale cambiamento. Il secondo punto chiave di questa headline è il fatto che ciò di cui parla sta avvenendo proprio in questo momento, sta avvenendo sotto i nostri occhi quasi come se fosse una notizia dell'ultima ora. Lo stesso potere che hanno le dirette Facebook oppure le notizie dell'ultima ora del telegiornale può essere sfruttato nelle headline proprio in questo modo. Quando ci viene detto che qualcosa sta accadendo proprio in questo momento, veniamo messi nella condizione di dover scegliere fare o non fare, prendere o non prendere questa decisione e prendiamo la questione in maniera estremamente seria. Il terzo fattore è la carota, ossia il beneficio. Questa headline infatti promette che se tu seguirai il consiglio, farai questo cambiamento che poi scoprirai inserendo nome di mail, riceverai una nuova ondata di traffico. Quindi abbiamo inserito un forte beneficio all'interno di questa headline, ma ovviamente non c'è carota senza il bastone. E allora allo stesso tempo ti dico che se non vuoi seguire il mio consiglio ed applicare il fondamentale cambiamento c'è il rischio che tu rimanga indietro. Nessuna persona sana di mente vuole rimanere indietro perché significa perdersi tutti i benefici e rimanere indietro viene collegato all'idea del fallimento. Tra le altre cose la headline ti dice che anche gli altri lo stanno già facendo, i marketer più famosi e quindi più svegli se ne sono già accorti. E tu? Tutti questi quattro fattori ed altri che ti svelerò in seguito fanno sì che questa headline abbia avuto il successo che si merita. Adesso puoi capire perché questa headline è andata così bene. Come vedi dietro ad una headline di successo si nascondono leve persuasive molto difficili da individuare se non si hanno i giusti modelli. La formula per creare headline che ipnotizzano infatti richiede un mix delle seguenti risorse di tempo, conoscenze avanzate di copywriting, fantasia, a meno che c'è un a meno che. Creare headline ipnotiche è stata la mia fissazione per anni. Volevo capire come poter far cadere in una trance di acquisto lettori casuali usando meno parole possibili. Ogni volta che incontravo un modello di headline pericoloso me lo salvavo in un archivio. Col tempo sono arrivato ad avere quelli che io considero i 100 modelli ipnotici di headline più persuasivi che ho mai incontrato sul mio percorso. Per anni sono stati il mio segreto per creare un titolo per un articolo, una headline per una lettera di vendita, il titolo di una Facebook Ads e così via. Immagina cosa significa per il tuo business cambiare una semplice headline di una Facebook Ads o di una lettera di vendita e di vedere aumentare le conversioni del 40, 60, 80%. Tutto questo è possibile grazie alla headline formulata col giusto modello persuasivo. Vero, creare le headline manualmente è divertente, ma non abbiamo mai la certezza di aver scritto qualcosa che impatta realmente sulla mente del lettore e lo fa cadere nel famoso scivolo insaponato. Per questo motivo ho deciso di condividere con te il mio intero schema di 100 modelli di headline ipnotiche sotto forma di videocorso. 100 headline ipnotiche è un videocorso di 6 ore, 100% pratico, che ti fornisce 100 modelli di headline ipnotiche da copiare ed incollare nel tuo business. All'interno troverai i 100 tipi di headline più convincenti, ideali per l'era dell'attenzione. Headline ipnotiche è un vero e proprio viaggio all'interno del mondo delle headline e una volta che avrai seguito questo corso potrai definirti un esperto della creazione di headline per lettere di vendita, titoli per articoli di blog, titoli per articoli virali, titoli per facebook ads, titoli per email e chi più ne ha più ne metta. In 100 headline ipnotiche scoprirai come mettere un tarlo nella mente delle persone da cui non si libereranno se non leggono il tuo copy. Lo trovi nel modello di headline numero 9. Come scioccare e incantare il lettore col fattore della stranezza che lo costringerà a rimanere sul tuo testo? Lo trovi nel modello di headline numero 23. Come rendere il tuo testo un annuncio da telegiornale sfruttando la naturale tendenza delle persone ad ascoltare le notizie? Lo trovi nel modello di headline numero 5. Come catturare la fiducia del lettore sfruttando la naturale diffidenza delle persone verso le autorità? Modello di headline numero 55. E inoltre scoprirai la headline perfetta per la creazione di articoli che diventano virali, la headline da usare quando hai un concorrente forte e famoso e non puoi nasconderlo al tuo pubblico. Come sfruttare il senso di patriottismo e di identità italiana presente sempre nel lettore ma contro di lui? Come usare la metafora della malattia per legarla al pericolo di non acquistare il tuo prodotto? Come sfruttare la leva della cospirazione dei nemici per far credere al lettore che sono tutti contro di lui? E tanto tanto altro. Marcello, ho appena finito di vedere headline ipnotiche, è una bomba. Dovresti venderlo a non meno di 500 euro perché vale davvero anni di studio e test di veri clienti. È una scorciatoia non indifferente. Queste furono le parole di Mattia, il mio copywriter, dopo aver assaggiato in anteprima i contenuti di quello che stavo creando per te. E Mattia ha ragione, questo videocorso di 6 ore potrebbe benissimo essere venduto a 497 euro. Ma oggi, e solo per due giorni, ho deciso di fare un'offerta flash. Un'offerta che vedrai sarà di beneficio per entrambi, sia per me che per te. Toglierò infatti per te, solo in questo momento, non 200, non 300, ma ben 400 euro e ti darò la possibilità di avere il mio archivio segreto 100 headline ipnotiche a soli 97 euro. Hai capito bene? A soli 97 euro, ora e soltanto in questo momento puoi avere 6 ore di videocorso e scoprire i segreti per scrivere titoli ipnotici cattura attenzione. Ma adesso ti starei chiedendo perché sto facendo questa offerta se il prodotto vale tanto. C'è infatti un ma e il motivo è che ancora il prodotto è in fase di registrazione. La mia mentalità è quella di recuperare i costi della creazione del prodotto ancora prima che il prodotto sia del tutto terminato. Quindi quando entrerai nella tua area riservata vedrai già i modelli ipnotici dall'1 al 16 e ogni settimana tirerò fuori nuovi video fino a rivelare tutti i 100 modelli persuasivi. Per questo motivo sto facendo questa offerta. Io posso recuperare i costi di registrazione e tu puoi ottenere adesso un prodotto di alto livello a soli 97 euro invece che prenderlo dopo ad un prezzo molto ma molto più alto. Penso che questa offerta sia un accordo ragionevole sia per me che per te e che anche tu sia d'accordo. Ecco cosa ti permetterà di ottenere headline ipnotiche più in dettaglio. Immagina questo. Entri nella tua area riservata e ti godi i primi video. Mentre ascolti la mia voce ti si apre la mente sui meccanismi di persuasione che permettono a programmi televisivi e pubblicità di risucchiare la tua intera attenzione già dal titolo che propongono. Man mano che procedi con lo studio, vieni a conoscenza delle leve mentali più intime del genere umano e realizzi che adesso hai in mano dei campanelli che puoi suonare a tuo piacimento per controllare le menti dei tuoi lettori. Lanci un nuovo prodotto e ti accorgi di come la possibilità di usare questi modelli ti è utile anche per creare dei post Facebook cattura attenzione. I tuoi colleghi e competitor si chiedono come riesci a creare materiale sempre così affascinante e coinvolgente mentre loro brancolano nel buio e creano articoli e prodotti noiosi. Adesso sei finalmente in grado di generare infiniti temi e titoli nuovi perché ti basta prendere uno dei cento modelli, applicare la leva persuasiva che il modello consiglia per avere a disposizione parole che fanno breccia nella mente di ogni tuo cliente. Monetizzare le tue Facebook ads grazie a questi nuovi angle adesso è molto più semplice e il processo è senza sforzo. Sai che scrivere email alla tua lista con regolarità è importante. Adesso grazie a deadline ipnotiche hai a disposizione più di 100 idee per nuove email o articoli di blog. Tutte idee che in maniera naturale ti portano nuovi visitatori interessati permettendoti di ottenere entrate e vendite extra che non ti aspettavi questo mese. Non ti resta che cliccare sul tasto d'ordine qui in basso e scoprire subito headline ipnotiche. ecco cosa fare adesso. Ti ricordo che questa offerta è un'offerta flash che durerà solamente due giorni e poi chiuderà completamente. Quindi per evitare di perderla approfittane adesso e clicca sul tasto d'ordine per entrare a far parte del gruppo di esperti di headline. Ci vediamo dall'altra parte un saluto da Marcello Marchese